Buongiorno amici Nexus Lab, sono Alessandro Bertola e oggi vi presento la nostra video Recensione di uno dei protagonisti di questo 2014, la HTC One M8, eccolo qui di fronte a noi Uno degli smartphone più belli di quest'anno che abbiamo provato a lungo prima di potervelo presentare Dato che è merita importanza, è un telefono assolutamente di alto livello Andiamo però, prima di vedere direttamente lo smartphone, consideriamo quello che c'è nella confezione Confezione è il nostro modello stampa, non abbiamo quindi la confezione originale Curiosità, il nostro modello, adesso non sappiamo se tutti i modelli sono caratterizzati da questo aspetto Ma è fatto in Taiwan, quindi fatto direttamente da HTC nelle sue fabbriche Aspetto che magari a qualcuno potrebbe interessare, visto che non è uscito fuori in tutti gli articoli precedenti Troviamo cavo USB e micro USB, naturalmente dovrebbe esserci tutta la manualistica del caso Cuffie auricolari con questi gommini rossi presenti in tutte le versioni Gommini rossi che si trovano in diverse combinazioni di dimensione a seconda del nostro orecchio E carica batterie da viaggio, anche se è piuttosto grande, sinceramente molto alto In più troviamo il piccolo spillo per aprire i carrellini sia della nano SIM Perché HTC ha scelto per una nano SIM e per lo slot della micro SD Andiamo ora a scoprire il One Allora, intanto che ve lo accendo, ve lo descrivo un attimo a livello estetico Ok Allora, HTC, prima di tutto, si rifà al modello precedente, scusate, di One M7 Anche se migliora in molti aspetti il design Prima di tutto è più morbido È veramente più morbido, più alto e più stretto È un form factor diverso Con un metallo, un alluminio satinato, veramente ben fatto In questa colorazione silver Dà il meglio di sé È veramente un ottimo telefono a livello estetico Però si possono fare naturalmente anche delle critiche Visto che abbiamo una parte superiore e una parte inferiore Molto pronunciate Soprattutto quella inferiore dove sembra che questa barra di HTC dove è presente il logo Non ha i tasti di sistema soft touch Ma sia stata realizzata in modo da consentire all'antenna di avere un segnale molto potente E in effetti, scopriremo più tardi Il segnale è abbastanza forte Dimensioni, dimensioni 146 x 70 x 9,4 mm di spessore Non è un telefono piccolo Il tutto per 160 grammi di peso Anche a livello di pesantezza ci troviamo di fronte a uno smartphone piuttosto pesante Ma non tra i più pesanti Comunque l'alluminio satinato giustifica questo peso che si fa sentire in mano Ma comunque più che giustificato Esteticamente quindi promosso, promosso pieni voti Abbiamo dei tasti fisici Uno nella parte alta, non so se riuscite a vederlo Nella parte alta qua abbiamo il tasto di blocco o sblocco dello schermo E di accensione A destra abbiamo il bilanciere del volume E altri tasti non ne troviamo Poi abbiamo il carrellino per la micro SIM e per la SD Qua a sinistra e a destra E come ci suggerisce lo stesso sistema Possiamo sbloccare il telefono anche con la funzione KNOCK Che abbiamo imparato ad apprezzare nei device LG Parte posteriore che cambia drasticamente rispetto al precedente One M7 Dato che troviamo doppia fotocamera Più un flash LED che non è più unico Dato che abbiamo doppia gradazione di flash LED Che scopriremo bene dopo cosa serve Allora Prima di tutto Vi faccio vedere come funziona lo sblocco col tocco Doppio tap Funziona abbastanza bene Molti mi hanno chiesto la differenza tra questo sistema e quello di LG Per ora quello di LG secondo me è superiore Funziona nettamente meglio Ha una risposta migliore Poi soprattutto quello di LG funziona anche nel sistema operativo Nell'interfaccia pure di Android Come potete vedere per sbloccarlo Lo sblocco funziona soltanto nella schermata di blocco sblocco Cosa che ne limita l'utilità Questa potrebbe essere anche una scelta fatta direttamente da HTC Non un problema software Ma che non capisco molto direttamente A livello hardware ci troviamo di fronte ad un top di gamma Come detto Un top di gamma che non ha niente invidiare a nessuno Display full HD Super LCD di terza generazione Qualcum Snapdragon 801 Qualcum Snapdragon 801 il processore Veramente fluido Non abbiamo mai praticamente notato un lag che sia uno Come potete vedere questo piccolo rallentamento è proprio dovuto all'interfaccia E' un'animazione dell'interfaccia 2 giga di ram e sd che può essere portata fino a 128 gigabyte Veramente tanto Quindi già 32 gigabyte inclusi Possono essere portati a oltre 150 gigabyte Il che ci consente veramente di disporre di un telefono Molto con tantissima memoria Andiamo a scoprire l'interfaccia La Sense 6 è un grande cambiamento rispetto alla 5.5 Troviamo sempre qualche elemento ridondante Tipo BlinkFeed BlinkFeed Scusate BlinkFeed BlinkFeed Scusate ancora Che comunque è stato rinnovato Quello che voglio farvi vedere è che Questo verde che troviamo nella parte alta di BlinkFeed E' un verde che si lega ai temi del telefono Noi infatti possiamo scegliere tutta una gestione dei temi In modo che il nostro smartphone ci indichi ogni singola sezione Ogni singola applicazione con un tema diverso Vediamo per esempio il tema Abbiamo qua il tema principale Possiamo mettere questo tema un po' più su colori scuri Che ci farà vedere l'applicazione tipo galleria eccetera In maniera diversa Adesso BlinkFeed è posizionato in questo modo Abbiamo questo viola Se noi andiamo anche nella galleria avremo un colore diverso Abbiamo questo fucsia Allora Quindi questa è già una delle prime caratteristiche Gestione delle home Gestione delle home Che può essere fatta con un pinch out Su una qualsiasi delle home Può essere aggiunta Può essere selezionata come principale o meno E possono essere spostati i widget Semplicemente con un trascinamento Qui è tutto molto intuitivo Niente di particolarmente nuovo Abbiamo la tendina La tendina che in seconda funzione Ci permette di gestire tantissimi aspetti Dalla luminosità del display Adesso posta al massimo A tre livelli di luminosità Già preimpostati Possiamo anche impostarla con questa barra Che ci consente una personalizzazione maggiore Dimensione e carattere Stile e carattere Daydream Time out schermo Luce notifica led Abbiamo veramente Qualsiasi personalizzazione Dell'interfaccia Abbiamo poi la modalità Risparmio energetico ultra Che ci permette già Di aumentare l'ottima Autonomia di questo dispositivo Dispositivo che ha Una batteria da soli 2600 mAh Batteria che forse Inizialmente sembrava Sottodimensionata Rispetto alle dimensioni del display Ma che alla fine Si rivela sufficiente Per arrivare a fine giornata Al pelo Se noi però Attiviamo la modalità Risparmio energetico Ultra Estrema Detta da HTC Che si attiva automaticamente Anche al raggiungimento Di una soglia Noi possiamo Aumentare drasticamente Di altre due Anche tre ore L'utilizzo del telefono Naturalmente la luminosità Viene ridotta Viene ridotto il numero Di app in multitasking Portando da Un massimo Quasi infinito A una sola Cosa che ci permette Soprattutto nei casi Di emergenza Di avere una gestione Della batteria Assolutamente Assolutamente Impareggiabile E non criticabile Abbiamo poi L'HTC Mini Che ci consente Una Connetta HTC One Mini Mini Plus Che è un sistema NFC A parte Che non è molto Comune da noi Bluetooth Modalità aereo Risparmio energetico Vi faccio vedere Questa invece È la gestione Del risparmio energetico Convenzionale Il tipo di suoneria Il tipo di profilo Possiamo anche Impostare un profilo Non disturbare Per esempio Disattivo Non disturbare Eccezioni Non disturbare Allarme Timer Eccetera Eccetera Tutto molto funzionale Da questo punto di vista Android si presenta Nella sua ultima Incarnazione Come possiamo vedere Da informazioni Informazioni Software Android 4.4.2 In attesa appunto Del rilascio Da parte di Google Di Android 4.4.3 Allora Menu Che si presenta In maniera abbastanza Convenzionale Rispetto a qualsiasi Altro Android Anche se A livello estetico Viene tutto gestito In maniera diversa Abbiamo anche Un menu Un'opzione Più che altro Dedicata a BoomSound Che sono La particolare tecnologia Che gestisce Le carse stereo Dell'ottimo HTC One M8 Uscita media Altro Abbiamo anche Utilizzo di altre reti Di altre impostazioni Di rete E andiamo adesso A scoprire Alcuni aspetti Pratici Di questo HTC One M8 Drawer Drawer Che si Gestisce In orientamento Verticale Con questa animazione Morbida Possiamo Riordinare L'applicazione Gestire L'applicazione Masconderle E anche Usare Una modalità Personalizzata Per Comporre Anche cartelle Possiamo Semplicemente Disporre Le icone Dal drawer Al una Delle home Senza particolari Problemi Di Applicazioni Preinstallate Cosa troviamo A parte La posta Che non è Quella proprietaria Di Kitkat Troviamo In più La tv Un'ottima Applicazione Per le tv Che funziona Molto bene L'abbiamo provata Su diversi Dispositivi TV E funziona Effettivamente Bene Purtroppo Non posso dire Lo stesso Per i decoder Mentre LG Da questo punto di vista Ha una gestione Delle periferiche Più a 360 gradi Quella di HTC In effetti È più improntata Nello specifico Verso le tv Abbiamo Una guida Rapida Tutte le Le opzioni Del software La modalità Bambino Estremamente utile Per chi Come me È un bambino Che ogni tanto Si diverte Ad Prendere Il proprio Cellulare E a Fare casino Attivando la modalità Bambino Va in un'area Protetta Con app Specifiche Che possono anche divertirlo Assolutamente È ottima Modalità auto Azioni Una solita app Perché Per vedere Gestire i propri titoli Azionari E poi La gestione Di Zoe Zoe Direi di vederlo un attimo Volevo un attimo Concentrare Prima sulla navigazione Navigazione Che non si Non si basa Su Non si basa Su Chrome Ma si basa Su un Browser Proprietario Che funziona Molto Ma molto bene Allora Vi dico Già subito Che il rendering È veloce Nello scroll Verso il basso Ho solo notato Qualche rallentamento Come potete vedere A volte Fa leggermente Fatica Riproviamo Andare nella home page Ricarichiamo La home page E lo scroll Purtroppo Non funziona Benissimo Questo mi capita Solo su alcune pagine Soprattutto quelle adattive Se invece vado Già su Yahoo Su Yahoo.com Questo mi capita In maniera minore Anche perché La pagina È proprio mobile Quindi Come potete vedere Lo scroll Funziona meglio Proviamo Andare su un articolo Riadattiamo Come potete vedere Lo schermo Gira benissimo E anche L'impaginazione Del testo È molto veloce Questo è uno Degli aspetti Più positivi Di Questo browser Web Ovvero L'impaginazione Del testo È Veramente Rapidissima Ritorniamo Su Nexus Lab Proviamo A aprire Anche qua Un altro Articolo Come potete vedere L'impaginazione Perfetta Se Io adesso Zoom Con le dita L'impaginazione È veramente Velocissima Niente da dire Da questo punto di vista Immissioni testi Immissioni testi La testiera Di HTC Non ci Regala Chissà Quali sorprese Ottimo Ha già di per sé Qua sbagliato io Allora Quello che c'è da dire È Come ci ha detto La stessa HTC Il touch È estremamente reattivo In effetti Ci sembra Neanche di Sfiorare Il pannello touch Che questo Prende i nostri comandi Come niente Ci si deve Abituare Perché è veramente Molto ma molto reattivo L'aspetto positivo A cui dobbiamo Abituarci In poco tempo Tastiera Precisa Tasti ben distanziati Anche La possibilità Di scegliere parole Nella barra Sopra È ben fatta Impara bene Il nostro Stile Di scrittura Inoltre Tutti i colori Che potete vedere Sia nella barra Qua Sia nella parte Della messaggistica Si rifanno sempre Al tema Da noi Impostato Dialer Dialer Che è Come al solito HTC Personalizza Come potete vedere Abbiamo una ricerca Velocissima Dei nostri contatti E in più Molto carina La possibilità Di vedere I nostri contatti Con questa trama Appuntinata Che si rifà Un po' La HTC Matrix Che è questa cover Con i puntini Che ci consente Di utilizzare Anche lo smartphone Con la cover Chiusa Poi abbiamo I nostri preferiti I contatti Elencati In ordine Alfabetico Funziona tutto Molto bene A livello Sonoro A livello Scusate Telefonico Tutto molto bene Compresa anche La telefonata Telefonata È dalla capsula auricolare Un suono Perfetto Anche a livello Di microfono Ha Un Ha la possibilità Praticamente Di Sopperire A qualsiasi Suono esterno In maniera Perfetta HTC Si conferma Come è Una delle migliori Aziende Da questo punto Di vista Volevo farvi sentire Anche queste Bellissime Casse Boom Sound Non vedo Perché Non farvele Ascoltare Visto che sono Veramente Veramente Eccezionali Volevo farvi vedere Prima Un'immagine Con I neri E i colori Questo display Super LCD Infatti Ha una Palette cromatica Bellissima Dei colori Veramente vivi Soprattutto Guardate Questo arancione Veramente Perfetto E abbiamo Dei neri Dei neri Molto buoni Pur essendo Un LCD Naturalmente Ci troviamo Di fronte Un LCD Quindi è Impossibile Equiparare Questa qualità A un AMOLED Proprio per Il tipo Di tecnologia Però Il livello Di questo LCD È tra i migliori Quindi Non rimarrete Assolutamente Delusi Andiamo Ascoltare Il nostro Solito Shakira Ok Shakira In questo caso Si sente Veramente Bene Non solo A livello Di potenza Ma E non solo A livello Di posizionale Finalmente Con delle casse Anteriori Ma Proprio a livello Di profondità Del suono Di naturalezza Del suono Tocchiamo Una qualità Veramente Alta Volevo 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 Tocchiamo Alla Alla fine un sensore da 4 megapixel, potete chiamarlo ultrapixel essendo molto più grande, ne limita drasticamente il dettaglio, però ne aumenta tantissimo la facoltà di acquisire luce. Proviamo per esempio questa foto, questa foto appena fatta, una macro, macro che vengono molto bene, il dettaglio c'è sempre una 4 megapixel ma vi assicuro che confrontato ad una 13 o una 16 la differenza si vede. La facoltà di avere un doppio sensore consente di poter utilizzare alcuni strumenti, soprattutto alcuni effetti, per esempio un focus, adesso non possiamo usarlo con questa foto perché è una foto in primo piano, possiamo utilizzare altri effetti, purtroppo adesso ho fatto questa foto in primo piano che non mi permette un granché. Andiamo per esempio a prendere qualche altra foto nella galleria, prendiamo per esempio una foto di prova, per esempio questa, dovrebbe permetterci di farlo, la modifichiamo, aggiungiamo degli effetti, un focus. Purtroppo questa non ce lo consente, prendiamo un'altra, proviamo questa che ha dei soggetti, è un po' troppo luminosa però dovrebbe poterci consentire di usare gli effetti. Ok, allora, un focus cosa ci permette di fare? Come potete vedere adesso il soggetto messo a fuoco è questo. Noi adesso vogliamo utilizzare un focus per mettere il soggetto più in fondo. Come potete vedere, grazie alla gestione del doppio sensore possiamo mettere a fuoco praticamente qualsiasi zona della foto. L'importante è aver fatto la foto senza filtri applicati o non essere in primo piano. Funziona tutto piuttosto bene. Dimension Plus ci consente di avere questo tipo di effetto 3D, non è molto apprezzabile in camera. Una cosa tipo quelle carte che usano i bambini per vedere degli oggetti. Possiamo mettere un soggetto in fondo con le stagioni. Fetti carini, niente di particolare. Mettere adesivo. Mettere i soggetti in primo piano con un particolare effetto sullo sfondo. Eccetera eccetera. Questo è praticamente quello che ci consente la presenza della doppia fotocamera. Detto questo abbiamo anche Zoe. Zoe che in questo caso non è una novità. Zoe che ci consente di poter effettuare foto. Andiamo nella fotocamera. Di effettuare foto catturando un piccolo breve video successivo alla nostra foto. In modo da ricreare una galleria dinamica anche automatica. Ok, foto fatta. Abbiamo anche altre modalità come video, l'autoritratto, scattolino, la doppia fotocamera che ci permette di inquadrarci noi in un piccolo francobollo. Il panorama a 360 gradi. Oltre a questo abbiamo anche tutta un'altra serie, mettiamo la fotocamera standard, tutta un'altra serie di effetti come anche tutta una serie di controlli manuali come l'ISO, bilanciamento del bianco eccetera eccetera. Tutte cose che faranno felici naturalmente chi vuole un po' o dimenarsi tra le impostazioni della fotocamera. Andiamo nella galleria, galleria che praticamente può essere vista in tre modi. Come potete vedere, essendo qua ZOE attivo, mi ha anche creato questa sorta di galleria dinamica. ZOE highlights, come potete vedere, posso anche creare degli effetti e unire tutti questi scatti ZOE in modo da avere delle vere e proprie filmati autoprodotti. Che posso anche personalizzare, tutto molto carino, assolutamente gestibile da chiunque in pochi passaggi. Troviamo inoltre, non ne abbiamo parlato all'inizio ma con l'acquisto di questo One M8, se vi registrerete col vostro account Google avrete su Drive, mi sembra 50 GB gratuiti per due anni. Quindi non viene usato per una volta Dropbox che abbiamo installato noi, ma Google Drive. Cosa che farà felici tutti gli utilizzatori di questo sistema cloud alternativo di Google. Vi abbasso un attimo la luminosità perché ho visto adesso che è un po' troppo alta. Volevo inoltre parlarvi di un altro aspetto, l'aspetto delle app che troviamo dentro questa applicazione multimediale. Perché? Perché troviamo anche la radio FM, radio FM che è sempre un'aggiunta che io apprezzo particolarmente. Perché purtroppo andando in Italia, avendo poco credito di navigazione, poter utilizzare la radio per ascoltare un po' di musica senza essere connessi è un gran vantaggio. Abbiamo anche un lettore musicale proprietario, anche questo come potete vedere si colora a secondo del tema, molto carino questa idea. Poi la schermata di multitasking che vi ho fatto vedere prima, è praticamente gestibile in questa griglia 3x3. Possiamo cancellare un'app in questo modo, facendo uno swipe verso l'altro, oppure vedere anche i servizi in esecuzione nello specifico. Blink feed migliorato, sistema che io non è che apprezzo più di tanto. Blink feed migliorato, praticamente non solo ci consente di avere informazioni sul mondo delle notizie, della politica, dello sport, eccetera. Ma anche proprio delle applicazioni dei nostri account social. Quindi è tutto molto utile, un hub completo. Naturalmente qualcosa si ha sempre paura di dimenticarselo, per quello alla fine la sua utilità è marginale. Abbiamo l'ottima schermata orologio di HTC, che ci permette di vedere tutti i fusi orari, il globo direttamente dinamico, gli allarmi che noi abbiamo impostato, il cronometro e il timer. Tutto con questa sua specifica interfaccia. Possiamo scegliere lo sfondo, aggiungere l'applicazione, gestisce i pannelli, schermata home, tenendo premuto il dito sul display. Che dire, non mi voglio dilungare ancora, ma voglio passare al resoconto su questo HTC One M8. Dispositivo eccezionale dal punto di vista estetico. Un passo in più rispetto a tutta la concorrenza, un passo in avanti rispetto all'M7. Ergonomicamente ci siamo, molto alto purtroppo, ma per una scelta forse anche costituita da poter garantire un segnale molto forte del telefono. Qualche criticità, c'è un peso abbastanza elevato, un prezzo inizialmente alto, ma adesso già si può trovare a 550€ come niente, quindi un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sinceramente l'unica critica che mi sento di muovere è alla fotocamera, fotocamera che sinceramente a me la soluzione ultra pixel non convince ancora pienamente. Se volete fare belle foto, ok, farà belle foto a livello macro, catturerà più luce, ma il dettaglio manca. Manca purtroppo, 4 megapixel ormai sono veramente pochi. Si fanno sentire, qualsiasi altro telefono, anche con un sensore da 8 megapixel riuscirà ad avere un dettaglio molto superiore, magari con meno luce. Però alla fine dei conti il dettaglio conta tantissimo. Quindi se avete domande o se avete altri dubbi potete farceli su YouTube, ma soprattutto sull'articolo della recensione che vi invitiamo a leggere. Un saluto da Alessandro per Nexus Hub.